Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. In questi giorni, celebrata la Pentecoste, la nostra anima si era allegrata e ricolmata delle ricchezze dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio è la vita, Dio è Dio, Dio è vita, come un padre è tale per la relazione che ha con i suoi figli, ma Dio in sé stesso è vita eterna, vita che si dona, vita che si partecipa, vita che ci arricchisce e quando l'uomo accoglie lo Spirito di Dio entra nella pienezza della vita, non si riveste di un mantello, non si mette addosso a un vestito nuovo, ma viene cambiato, trasformato, generato. Per questo Gesù dona allo Spirito Santo dopo la sua risurrezione, dopo aver sacrificato la sua vita umana, averne fatto un dono al Padre ed è fonte questo amore su tutta l'umanità. oggi noi vediamo il mondo che si sta ribellando a Dio, in nome della scienza, in nome della tecnica, in nome delle scoperte moderne, si tende a creare una nuova mentalità. Dio è vita, è vita che si dona, che lui permea la nostra realtà, infondendo in noi il suo Santo Spirito. Questo richiede anche da parte nostra l'accettazione che l'uomo vecchio, legato alle passioni, alla corruzione, legato al potere di Satana, sia sradicato da noi. Per questa la lettera agli ebrei, parlando della parola di Dio, dice che la parola di Dio è come una spada affilata a doppio taglio che penetra fin nelle minolle delle ossa, fin nelle profondità dell'anima, fin a separare l'anima dallo Spirito, cioè a sradicare da noi l'amalizia, la corruzione, la sensualità, l'ipocrisia, la morte. Ecco lo Spirito Santo di Dio, la parola di Dio, Dio che si rivela, lo Spirito che si manifesta e agisce e opera in noi. Vedete quale sublime dono tutti noi abbiamo, quello di poter essere permeati dallo Spirito Santo di Dio e tante anime, fratelli, accettano questo Spirito nuovo. Dopo aver sacrificato però la vita vecchia, averla abbandonata, rinnegata, non basta che io faccia il bravo cercando di non cadere in qualche difetto, ma non devo avere neanche l'amore per la sensualità, come dice Gesù nel Vangelo. Vi è stato detto non uccidere, ma io vi dico che anche solo giudicando sarete condannati. Vi è stato detto di non rubare, no è poco, devi amare. Vedete che si parla di una vita sacrificata, rinnegata, quella peccaminosa che deriva appunto dal potere di Satana per entrare nella sfera dell'amore di Dio ed essere permeata, fino a far comunione piena con Lui. In questi giorni di Pentecoste il Signore ci è nata la grazia di contemplare questo mistero d'amore, ma anche di esporre la nostra vita a questa grazia che ci fermi al profondo, cominciando con liberarci della colpa del peccato. Non solo Dio ci perdona, si prende la nostra colpa, la cancella e mette in noi una nuova realtà. San Paolo nella lettera ai Colossesi dice che Dio ci è trasferiti dal regno della legge e del peccato nel regno del figlio di Dio, dalla schiavitù della legge alla libertà dei figli di Dio. E oggi la Chiesa, per volontà innanzitutto di Paolo VI, che a termine della terza sessione del concilio Vaticano II, volle proclamare Maria madre della Chiesa, col consenso guardato un po' anche degli evangelici, dei protestanti che erano presenti al concilio, perché realmente la Madonna ha dato vita a Gesù Cristo e Gesù sulla croce ha affidato la Chiesa a Maria e l'ha proclamato tale, perché dalla sua fede è nato questo nuovo popolo, il popolo di Dio. E Papa Francesco ha voluto anni fa che questa celebrazione avvenisse oggi, giorno dopo Pentecoste, per riconoscere la divina maternità di Maria, frutta appunto dell'azione dello Spirito Santo. E questa maternità è stata adombrata già all'inizio della creazione, quando il Signore, rivolto a Satana, ebbe a dirgli, io porrò in nemicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, tu la insiderai al calcaneo, ma essa ti schiacciera il capo, cioè tu non prevarrai su di lei. E dal cuore di Maria è nato Gesù Cristo, dal cuore di Maria è nata anche quindi la Chiesa e noi siamo figli suoi in questo popolo nuovo, nato dallo Spirito di Dio attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce e con la sua gloriosa risurrezione, Maria ha avuto questa funzione di essere madre e tale rimane per l'eternità e tale la dobbiamo amare, tale la dobbiamo venerare e tale ci dobbiamo considerare anche noi, figli suoi. Ecco allora la devozione alla Madonna ci porta a questo, a considerarla madre di Cristo e madre nostra. E sulla croce conosce bene l'episodio, Gesù prima di morire, rivolto a Maria, indicò Giovanni dicendo donna ecco tuo figlio, e a Giovanni figlio ecco tua madre. Ma Giovanni aveva una madre, era figlio di Zebedeo e aveva anche la madre. Gesù affida sua madre a Giovanni e Giovanni è sua madre per dire è il nuovo popolo di Dio che nasce dallo Spirito Santo. Spirito Santo che sei presente nel cuore di ogni uomo, Spirito Santo che fai nuove tutte le cose, Spirito Santo che agisci incessantemente, che glorifichi Gesù Cristo in mezzo a noi, oggi rinnova tutta la Chiesa, il nuovo popolo di Dio destinato a diventare la nuova creazione e a portare la la nuova creazione su tutta la terra, per intercessione della Beatissima Vergine Maria, nella quale tutti questi presagi, queste profezie si sono realizzate fino al convimento della sua gloriosa assunzione al cielo, dona oggi a tutta la Chiesa questa grazia di essere rinnovata, santificata ed essere nel mondo segno della nuova creazione per attirare tutti gli uomini a una vita rigenerata. Oggi Sadona si sta scatenando, le forze del male sembrano prevalere, ma il Figlio di Dio, avvinto la morte e le porte degli inferi, non prevalranno contro la sua Chiesa. Noi ci affidiamo all'intercessione materna della Vergine Maria, nella quale tutte le promesse di Dio sono diventate sì, ed è per noi segno dell'eterna fedeltà del Signore che l'opera iniziata nella Vergine viene trasferita a tutta l'umanità, alla gloria del Signore nostro Gesù Cristo che per noi ha vinto la morte ed è risolto e oggi regno e glorioso, a Lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Maria, Madre Santissima, Tu eserciti la Tuvina Maternità sulla Chiesa, partecipandoci tutti i doni che ha ricevuto dal Figlio Tuo Gesù Cristo, condividendo con noi le glorie della Tua immaculatezza, le glorie della Tua assunzione al cielo. Per questa grazia dono oggi a tutta la Chiesa di essere rinnovata, rigenerata, vittorioso sulle potenze del male, sciolte da un legame di peccato, dia gloria al Figlio Tuo Gesù Cristo e porti salvezza ad ogni uomo sulla terra. Allora, la gloria del Figlio Tuo Gesù Cristo che vive in regno per tutti i secoli dei secoli. Amen. E oggi più che mai guardiamo alla Madonna, fratelli, come la nostra vera madre, madre del nuovo popolo di Dio. La vecchia Eva portò l'umanità al peccato, la nuova Eva guidata dall'umanità, alla salvezza, perché dal Padre è stata resa vittoriosa sulle potenze del male e regni col Figlio Suo Gesù Cristo, all'ode gloria di Dio Padre. E noi sentiamoci i figli Suoi e come tale amiamola e veneriamola. Amen. Grazie a tutti.